Buone notizie per chi a Capodanno vorrebbe muoversi a Napoli con i mezzi pubblici. Per il giorno di festa, infatti, i vertici dell'ANM hanno assicurato servizio prolungato sulla linea 1 per tutta la notte. Una misura fortemente voluta dal sindaco Manfredi per garantire il servizio di mobilità pubblica anche in occasione dell'evento in programma a Piazza del Plebiscito, nell'ambito delle celebrazioni in programma per il Capodanno. Corse non stop sia per i treni della linea 1 della metropolitana di Napoli, sia per quelle della funicolare centrale, mentre le linee Montesanto e Mergelline effettueranno la loro ultima corsa alle 19.40. Buone notizie anche per chi è in programma di spostarsi con i treni della Cumana e delle linee Napoli-Sorrento dell'Eab. Anche l'ente autonomo Volturno, infatti, è riuscito a trovare una quadra per assicurare ai viaggiatori corse negli ultimi giorni di festa dell'anno. Servizio assicurato dalla mattina con partenza in programma dopo le ore 7, poi una sosta temporanea di 2 ore a partire dalle 14 e ripresa delle attività dalle 16 fino a sera, con gli orari di termine del servizio previsti identici a quelli di tutte le altre domeniche dell'anno. Insomma, trascorrere il Capodanno a Napoli potrebbe essere più semplice del previsto.